il popolo è un bambino se gli rubi le caramelle il bambino si arrabbia ma se gli le metti in vetrina quello se le compra subito allora tu che sei più furbo del popolo gliele fai pagare il doppio di quello che valgono così per ogni caramella che si compra una gliela vendi e un'altra gliela rubi se metti le mani in tasca al popolo sei un ladro ma se è il popolo che si viene a svuotare le tasche da te è solo una legge di mercato il popolo è un bambino gli piace comprare le caramelle poi poi magari se le porta a casa e manco se le mangia magari le butta al secchio magari perché perché ai bambini gli piace comprare 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 allora tu che sei più adulto del popolo gli vendi tutto il popolo vuole mangiare e tu gli vendi le porcherie fino a farlo scoppiare il popolo vuole le canzonette e tu gli vendi qualche chilo di ritornelli da canticchiare sotto la doccia il popolo vuole gli ideali e tu gli vendi anche quelli poi poi magari si riporta a casa e non ci crede più magari li butta al secchio meglio meglio così torna subito al supermercato a comprarsi le caramelle grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti